Amici dello sportello del cittadino, siamo a Taranto da una privata abitazione di via Fratelli Rosselli 4. Siamo praticamente in zona solito Corvisea, nei pressi della pineta di Via Ancona, nelle adiacenze della chiesa Santa Rita. Questa pineta è stata ribattezzata con l'espressione Giardini Giardinetti di Totò. Un polmone di verde che è prezioso in una città maledettamente e terribilmente inquinata come Taranto, però la pubblica illuminazione è assai carente. Sono stati sistemati dei pali della pubblica illuminazione, ma non sono sufficienti perché la manutenzione ordinaria non viene eseguita. Alcuni pali funzionano, recano l'illuminazione, ci sono altre zone, come vedete, completamente buie. Ora, se consideriamo la zona, è chiaro che si presenta anche un problema di sicurezza, perché poi in zone buie, particolarmente buie, e stiamo parlando di una zona centrale di Taranto, il rischio di criminalità è quanto mai forte. C'eravamo più volte, ci siamo più volte rivolti all'assessore Lonoce, il quale mi ha detto, ho provveduto a eseguire l'ordinaria manutenzione, ma ci sono delle aree di questa piazza, di questi giardini, di questa pineta, che inspiegabilmente, non so se è un problema elettrico, non sono un tecnico della materia. Fatto sta che 4-5 pali concentrati in una determinata area non risultano illuminati e chiaramente determinano una situazione di buio pesto e, torno a ripetere, sembra quasi la selva oscura, la selva dantesca, appunto, della Divina Commedia. Beh, cosa dire all'amministrazione? Abbiamo un polmone di verde, rendiamolo fruibile, soprattutto d'estate, con un po' di luce, è un luogo per far sì che ci sia l'aggregazione, ma con il buio pesto i rischi sono particolarmente gravi. È tutto dallo sportello del cittadino.